E vediamo come le vie legali spesso possano essere utilizzate per ostacolare ad arte lavori scomodi. Il servizio di Maurizio Ciotola. Nel nostro paese non è mai mancata la volontà del fare. In alcuni casi questa era ed è affetta dall'eccesso dello strafare, spesso non rispettando le regole. In altri casi le avversioni di una concorrenza non sempre leale frena il fare attraverso vie legali. Il risultato è quello per cui troviamo delle città che si avvicinano più a quello che fu la Beirut post distruzione dopo gli anni Ottanta, piuttosto che all'operosità dell'Europa del Nord di cui restiamo sempre affascinati. Se poi restringiamo il cerchio alla città che alcuni anni fa si candidò come capitale europea della cultura, quale Cagliari, vediamo che le condizioni di stasi dei cantieri è al di sopra di ogni aspettativa, a volte per motivi legali, altre per carenza di finanziamenti o esaurimento degli stessi. Quando si arriva a Cagliari ci troviamo di fronte a tanti cantieri che ricordano un po' la famigerata fabbrica di San Pietro in cui i lavori erano interminabili. A dire il vero, il primo assaggio di questo disastro lo abbiamo percorrendo la 131 che una persona della mia età ha sempre visto in divenire mai conclusa. E' vero, al sud più che altrove i cantieri si aprono con grandi striscioni e annunci, ma non si concludono quasi mai. Solo alcuni riescono a terminare nei tempi previsti e senza incorrere in ostacoli, a volte derivanti da blocchi burocratici, altre da fermi della magistratura che necessariamente deve indagare di fronte a espresse denunce. Ovviamente solo quando vi è chi rileva e denuncia l'incoerenza tra ciò che è stato realizzato e il progetto. Nei fatti ci troviamo con una infinità di tamponamenti provvisori, orridi sul piano urbanistico e dell'igiene, che diventano perenni, al pari degli stessi cantieri inattivi.